Musica Eccoli, si incontrano a metà strada come Garibaldi e Vittorio Emanuele a Teano Chi è Garibaldi, chi è Vittorio Emanuele? Sono bene 31, 31, 31, 31 Sono 31 Bene, fotografati, fotografati Passa con il canone, non so più di canone Quasi fantasciente E' Chirico, è più forte di lui, si è pregato il canone Se tu sei croninista non è molto Allora